Sipolite, la migliore piazza di nude in mexico. In questo posto interessante, la gente può andare sulle piazza nude, senza avere problemi, e puoi mostrare i vostri parti più intimi senza penalti o fine. Della piazza principale, siamo arrivati a visitare la più famosa Playa de Lamor, in inglese, beach of love. L'unico accesso è via stairs, per arrivare a questo enchante e secludo, un posto secludo. Alcune regole si applicano per questo posto, insomma che non ti permette di avere sexuali, quindi è una beach of love, ma non puoi fare amore. Noi, 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 noi. Uno dei migliori luoghi in Sipolite con il nome perfetto dove puoi spendere tempo completamente naked in front of the beach a nice place on the beach where people come to do nothing this is my favorite place to have a delicious lunch on the beach facing the beautiful sea a plate of marinated seafood nachos and a glass of fresh tamarindo juice now I will show you with the drone the very long stretch of Sipolite beach this is a quiet place where people spread love and peace and there is no space for war and hate so 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 at night we walk the malikon and shop around to buy some handmade souvenirs to take home and give to our family and friends so 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 we move to the beach where you can find all the restaurants and bars so so this is my favorite bar where you can have a drink if you want you can lie down on the bed and fall asleep or as I choose swing on the swing like a child so 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 with the drone we fly to see the beautiful and natural arch So 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 and so 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 Non dimenticare di andare a El Faro, alcuni passaggi e dove con il nostro drone andiamo a visitare Puerto Angel e la piazza. A destra puoi vedere la piazza di Pantheon, la più bellissima perché ha molto piccola piazza o niente e quindi puoi andare a bath e andare senza problemi. Siamo speriamo che avete piaciuto il posto e il video, se così, clicca sul canale per aiutare a fare più e più piccoli video. Grazie mille e vediamo alla prossima. Ciao!